Ed ora la febbre da ATP in attesa del blue carpet con la sfilata dei campioni a Palazzo Reale in Piazza Castello aperte anche le case del tennis dedicate all'evento e ai media. Su Torino il Palalpiture, gli occhi di una platea televisiva mondiale di 179 paesi. Massimo Lanari. Taglio del nastro in casa tennis, tutto pronto per accogliere spettatori, turisti o semplici curiosi. Poco più in là, a Palazzo Madama, casa media. ATP Finals su Torino fino al 19 novembre c'è lo sguardo di tutto il mondo del tennis. C'è certamente il cuore che è il Palalpiture, l'incontro di tennis, ma poi c'è l'intera città che deve essere portata a bordo. E aggiungo un ulteriore elemento che è quello di essere un esempio per le giovani generazioni a avvicinarsi alla pratica sportiva. E poi all'archivio di Stato, casa gusto, turismo, gastronomia, storia e tanta arte anche in versione pop. Tennis che ispira artisti dalla rivisitata scuola di Atene, anzi di Atennis, alla Veronica di Panatta, fino al protagonista più atteso, Yannick Sinner. Ci sarà anche lui alla sfilata di oggi pomeriggio alle 17 in Piazzetta Reale. Parata di campioni, con una certezza, Torino a loro piace. Abbiamo coinvolto le associazioni, gli albergatori, tutti i commercianti. Ci saranno aperture più lunghe degli esercizi commerciali, dei ristoranti, dei bar, attività nelle piazze. Le degustazioni, i turisti potranno prenotare su una app specifica le visite. L'obiettivo di questa terza edizione torinese delle ATP Finals è quello di avvicinare ancora di più l'evento alla città. Tennis che invade le strade, Tennis che sarà protagonista di una notte, quella di sabato, 18 novembre, tra cultura, danza, musica e arte. 32 traenti e fondazioni offriranno sconti ed eventi gratuiti, fino alla festa finale, domenica, 19 novembre, alle OGR.